La mia vita è la mia vita. Ora andatevele. E se preferissi restare? Attento a chi frepetti. Come puoi associare il tuo nome a quello di Marx? I borghesi amano parlare della libertà, ma è della loro libertà che parlano, non della vostra. Lo provate sulla vostra pelle ogni giorno. Il signor Naylor possiede delle fonderie a Leeds, impiega parecchi operai, tra i quali molti bambini. È quello che fa la società. Voi non siete la società. Il lavoro li uccide! La libertà, l'uguaglianza, la sicurezza dei cittadini, a loro questo non interessa! Queste sono astrazioni! Sono dei diretti! Viva l'anarchia! Vedo che amate la discussione o per meglio dire lo scontro. Io direi la dialettica. Alle menti che pensano davvero e agli spiriti liberi. Questa notte non abbiamo solo bevuto, scriveremo un libro insieme. Dovevi consegnare il programma una settimana fa. Io ho una famiglia da mantenere un problema che tu non hai! Non c'è felicità senza rivolta. E spero di vedere il vecchio mondo crollare presto. Noi tre insieme faremo a pezzi il vecchio mondo. Forse dovremmo essere un po' più di tre. La Lega ha bisogno di uomini, non di cervelloni che dicano loro cosa fare e pensare. Sì, ma volete diffondere le vostre idee? Metteteci alla prova! Noi siamo invincibili! Fermatevi!